ciao vi saluto da san lazaro da un sentiero che veramente più che sentiero sembra una giungla guarda questo è il sentiero con alberi caduti portati da dall'acqua e devi andare così in zigosac ecco poi attenti anche le ragnatelle che ti va negli occhi insomma è un po' strano ecco vi saluto il sole si vede appena un po ciao ciao